Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le informazioni del telegiornale di TV City. Saranno in vigore a partire da domani, giovedì 5 novembre, le nuove misure restrittive previste dall'ultimo DPCM firmato questa notte da Conte, coprifuoco alle 22 per tutti e Italia divisa in più zone in base al rischio di contagio. Al momento la campagna non sembra rientrare tra le zone russe. Contagi sempre in aumento nei comuni del Vesuviano, la situazione più critica a Castellammare. Sono in contatto continuo con ASL, Regione e Governo, dice preoccupato. Il sindaco Cimmino a Dercolano i cittadini si dichiarano consapevoli e pronti ad affrontare le nuove misure restrittive, la priorità e la tutela della salute. Il Covid ha cambiato la quotidianità di tutti noi, così si sono espressi i cittadini di Torre del Greco, questa mattina intervistati dalle nostre telecamere. Non manca chi evidenzia le falle del sistema sanitario, ribadisce ancora la mancanza di controlli. Questo è d'altro, guardiamo i servizi. Firmato il nuovo DPCM nella notte di ieri, il Premier Conte resiste al pressing finale delle regioni e decide per un regime di chiusura differenziata, a seconda della fascia di rischio di contagio da Covid-19. La richiesta numero uno dei governatori regionali restano i ristori. Conte assicura il decreto sarà varato in settimana e le erogazioni saranno tempestive, anche se la cifra di 1,5 miliardi probabilmente non basterà. Novità rispetto alla bozza di ieri pomeriggio su barbieri e parrucchieri, che potranno restare aperti anche nelle regioni rosse. Il DPCM andrà in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre. Conte ha deciso, il coprifuoco scatterà su tutto il territorio nazionale alle ore 22. Dalle ore 22 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. In ogni caso fortemente è raccomandato a tutte le persone fisiche per tutto l'arco della giornata di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privati, salvo che per esigenze lavorative di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, ha affermato il Premier. Importante e stretta nelle regioni a massimo rischio, dove resteranno chiuse anche attività di ristorazioni, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e anche i mercati. Didattica a distanza al 100% per le superiori, mentre tornano in presenza le attività didattiche per scuola dell'infanzia, elementari e medie, con uso obbligatorio di mascherina, salvo per bambini di età inferiore ai 6 anni. Il Premier Conte non chiude circoli sportivi, tranne nelle zone russe, ma vieta l'uso degli spogliatoi. Sospese comunque l'attività di palestre e piscine. L'attività sportiva di base e l'attività motori in genere, svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, conclude il Presidente del Consiglio. Cresce la preoccupazione per l'impegnata di contagi da Covid-19 in campagna nella giornata di ieri. Si contano 2.971 casi positivi, di cui 2.870 sintomatici e 101 i sintomatici. Sale quindi a 65.432 il dato delle positività attestate, registrate anche 24 receduti. Nel Comune di Torre del Greco ieri certificati 20 ulteriori casi di positività al virus, tutte in forma sintomatica. Attestato inoltre il passaggio di un soggetto positivo dal regime ospedaliero all'isolamento domiciliare. Dopo i dati di ieri salgono a 347 i cittadini torresi positivi al stampone. Il numero di cittadini del Comune di Ercolano positivi al Covid-19 è di 467 unità, mentre 92 sono i guariti. Il totale dei tamponi è di 3.296 a partire dal 1 ottobre. Gli ospedalizzati sono 5. Si attesta un incremento di 42 casi registrati nell'ultimo weekend. Preoccupante quadro arriva dal Comune di Castellammare, che registra ben 87 cittadini positivi al Covid-19 in 24 ore. La nostra città è alle prese con una fase critica dell'emergenza. Sono in contatto continuo con ASL, Regione e Governo, per le misure da adottare per porre un freno alla diffusione del contagio e abbassare questi numeri impietosi, afferma il sindaco Gaetano Cimmino. In questa fase chiedo a tutti voi di rispettare le regole. Io sarò sempre qui al lavoro giorno e notte per la vostra tutela. A portici le persone che al 1 novembre risultano contagiate sono 431, di cui 4 ospedalizzate, mentre 427 sono in isolamento domiciliare prevalentemente con sintomi lievi. Per esperienza personale consiglio a tutti i contagiati e ai loro familiari di avere innanzitutto grande pazienza senza l'ansia di guarigione, grande disciplina nel seguire le terapie indicate dai rispettivi medici di famiglia o dai pediatri di libera scelta a cui esprimo un senso di gratitudine per l'impegno, la dedizione e la professionalità con cui stanno curando i propri pazienti, scrive il primo cittadino Enzo Cuomo. Altri 13 casi di positività da Covid-19 nel comune di Bosco tre case, riferiti a 51 tamponi comunicati nella giornata di ieri. La priorità è salvaguardare la salute. Ai microfoni di TV City i cittadini di Ircolano si dicono preoccupati per la seconda ondata del virus. Tra gli intervistati molti quelli favorevoli ad ulteriori nuove chiusure per contrastare l'epidemia. Emergenza Covid-19, crescono i contagi in tutta la campagna, come si presenta attualmente la città di Ircolano? Sicuramente i contagi sono tantissimi, io spero che con le nuove riforme praticamente riusciamo a contenere tutto il disagio, ma anche per i bambini che vanno a scuola, comunque è una bella emergenza questa, quindi è un bel trauma per loro che sono piccoli. Da genitore che cosa ne pensa della chiusura delle scuole e della DAD, didattica a distanza? Io condivido pienamente perché comunque la scuola può portare un ulteriore disagio anche per le famiglie, perché comunque se a casa ci sono delle patologie, genitori con patologie, ovviamente aggrava tutta la situazione. Io penso che è importante questo. La didattica a distanza si è fatta bene, comunque la condivido sinceramente. A differenza di altri comuni penso che ci stiamo adattando bene a questa situazione. Poi ovviamente da parte del DPCM noi seguiamo sempre le solite cose, mascherina, i metri di distanza e soprattutto adesso, mai come ora che i contagi stanno aumentando, dobbiamo essere un poco più responsabili. Ercolano diciamo che si trova più o meno nella stessa situazione di molte altre città della Campania e anche dell'Italia. Quindi anche da noi si sono incentivati i casi di Covid. Cosa ne pensa delle misure di sicurezza adottate negli ultimi dieci giorni, tra cui la chiusura parziale delle scuole con la sostituzione in didattica a distanza e soprattutto la chiusura anticipata di bar, pasticcerie e ristoranti alle ore 18? Mi rendo conto che queste misure possono essere di complicazione per alcune categorie tipo bar, ristoranti eccetera, però penso che siano state necessarie perché altrimenti si sarebbe perso il controllo della situazione. Quindi sono a parere mio indispensabili. Se noi guardiamo il telegiornale possiamo vedere che anche nel Regno Unito si è iniziato con un lockdown quasi totale. Molto probabilmente sarà la stessa cosa in Francia e in altre nazioni europee. Quindi noi purtroppo ci troviamo nella stessa situazione. Crescono i contagi in tutta la Campania. Com'è la situazione qui a Ercolano? C'è preoccupazione tra i cittadini? Penso proprio di sì, decisamente sì. Posso parlare della mia esperienza. Io per esempio nel lavoro ho avuto un forte calo perché nonostante faccio una professione sanitaria comunque le persone hanno paura proprio a venire a studio e quant'altro. C'è consapevolezza della pericolosità di questo virus tra le persone? Ma secondo me in parte sì ma in parte anche no. Perché comunque per esempio soprattutto tra i giovani si vede che in giro vanno anche senza mascherina. Quindi no, non penso che ci sia una vera consapevolezza del problema. Mettere al primo posto la salute e quindi se bisogna interrompere delle cose va bene. Però il discorso e poi tutto l'aspetto economico, sociale, psicologico che secondo me non è stato per niente tenuto in conto e quindi non c'è una vera tutela. Per cui chiudere così per me non ha senso. Va bene però ci deve essere tutto un contorno fondamentale attorno. Siamo costretti proprio a difenderci fra di noi. Secondo lei c'è consapevolezza del virus tra i cittadini? Forse all'inizio, adesso non più. È come se non hanno capito ancora il problema dove è. Mi sa che saremo uno su cinque di contagiati e di positivi. Mi auguro che non si diffonga ancora di più questa situazione perché siamo rovinati proprio. Persone che non ne parlano lo tengono nascosto perché hanno, non lo so, si sentono evidentemente messi da parte, hanno paura di essere isolate, appestati. Bravo, il termine è giusto. Cerco di scendere il meno possibile, cerco di non avere rapporti esterni, non invitare nessuno a casa, non andare a casa di nessuno. Ma mi sa che la guardia noi la abbassiamo in famiglia. È lì dove ci saranno i maggiori contagi. C'è una figlia giovane che esce, nonostante le faccio tante raccomandazioni, mi si blocca, vuole uscire. Che Dio ce la mandi buona. Uscite ridotte al minimo indispensabile, nonni che non possono vedere i nipoti, non c'è più vita sociale. Il Covid-19 ha stravolto inevitabilmente le nostre abitudini. Questa mattina le telecamere di TV Siri sono state nel centro storico di Torre del Greco per capire come l'emergenza sanitaria ha inciso sulla quotidianità dei cittadini. Il Covid-19 è entrato nelle nostre vite cambiandole. Come questa emergenza ha cambiato i suoi stili di vita e la sua quotidianità? Ma ha cambiato totalmente. Si esce solo veramente per necessità e nulla. Si passano le giornate in casa. Bisognerebbe essere tutti un po' più responsabili. Evitare di incontrarsi se non veramente per lo stretto indispensabile. Le manca molto la quotidianità che c'era prima del Covid-19? Assolutamente sì. Purtroppo non vedo i miei genitori perché sono anziani e quindi li tengo molto riguardati come i familiari e quant'altro. Come ha cambiato invece la sua di quotidianità? Praticamente c'è stata proprio una rivoluzione. A parte il fatto che bisogna stare un attimino molto più attenti e poi mi ha limitato nel lavoro, mi ha limitato anche con i ragazzi. Insomma è stato un bel cambiamento, non facile. E come ha cambiato invece la sua vita sociale? Praticamente io sono parte di una famiglia molto unita e non mancava occasione che ci incontravamo. Non le nascondo che già da un bel po' che non vedo cognati, non vedo sorelle e anche con i miei ragazzi, con i miei figli cerchiamo un attimino perché lavorano tutti e due. Cerchiamo un attimino di mantenere le distanze e quindi è da molto che non c'è più vita sociale, anche con gli amici. Io adesso sono uscita un attimino da scuola perché noi stiamo iniziando a fare un po' di didattica in presenza, sono dovuta andare a fare una commissione e adesso immediatamente io torno a casa. Se no io non starei neanche per strada. Dobbiamo stare attenti perché non è uno scherzo. È inutile che ci prendano in giro e dicono che sia un'influenza più pesante, non è così. Assolutamente non è così. E quindi dobbiamo stare attenti e essere responsabili per evitare il peggio, il peggio anche a livello economico, che se adesso stiamo attenti le cose probabilmente si metteranno a posto. La mancanza di controlli e le falle nel sistema sanitario sono gli altri problemi che emergono nuovamente dalla voce degli intervistati. Sono stata dal mio medico 20 giorni fa, ho fatto il vaccino antinfluenzale, ho chiesto al mio medico che cosa potesse portarmi, se un po' di febbre, dolori eccetera, mi ha detto no, non succede niente. Il giorno dopo mi è salita la febbre a 38 e mezzo. Ho dovuto chiamare il medico ma il medico non mi ha risposto. A oggi dopo 15 giorni non ho avuto ancora nessuna risposta. Se non era per mio nipote che è il medico e la moglie è medico, ho chiesto a loro cosa dovevo fare. Mi hanno dato la tecvirina ma non era il covid ma era semplicemente la reazione al vaccino. Certo la paura c'è, ma noi cittadini dovremmo comportarci molto ma molto meglio di quello che facciamo. Mascherina, evitare riunioni, evitare gli assemblamenti e ascoltare un pochino di più quello che dicono i grandi professori e non il nostro sindaco che dovrebbe fare qualcosa per i suoi cittadini, a parte l'inciviltà che c'è che è esagerata. I vigili dove sono? I vigili urbani? Hanno tutto il covid? O stanno nei bar limitrofi nelle zone dove non vengono visti? Allora che mettesse i vigili urbani in strada? Qui non se ne vedono. Sono giorni che non si vede un vigilo urbano. Assolutamente. Allora provveda a fare quello che deve fare. Come il covid ha influenzato e come ha cambiato la sua vita? La mia vita è cambiata che devo stare di più in casa, non posso, magari se voglio fare una gita, un'escursione, voglio andare in un'altra città, non posso andare. Nei negozi devo fare la fila. Anche magari se devo andare a trovare qualcuno, sono impedita ad andarci perché magari posso trasmettere il virus oppure almeno me lo possono trasmettere. Insomma è diventato stressante questo problema. Però rispetto al mese di marzo, di aprile, mi sento un pochettino più libera perché allora giustamente dovevamo stare proprio segregate in casa. Le restrizioni che sono in arrivo in queste ore crede siano sufficienti o teme che siano necessarie misure più restrittive? Le misure adottate, il fatto del distanziamento e della mascherina e di pulirsi le mani in continuazione penso che questo già basta, soprattutto il distanziamento. Però poi il resto penso che non... perché poi giustamente queste misure di non uscire alle 10, di avere il coperifiorno alle 10, fino alle 5 di mattina, cioè è un orario che è normale. Quante persone possono stare in mezzo alla strada alle 10 di sera fino alle 5 di mattina? Penso che sono poche e quindi penso che è una misura che non è... non la vedo abbastanza importante. Com'è cambiata la sua quotidianità? Quotidianità è lontano dai nipoti, il distanziamento tutto. Prima avevo un po' la babysitter, adesso no perché giustamente fra bimbi e nipoti, bimbi e nonni, un po' di distanziamento. È cambiato di tutto, se fai spese stai sempre col timore di incontrare uno senza mascherina. È cambiato proprio il tempo di tutti noi. La scuola non si va. Tutte queste cose sono cambiate per noi. Logicamente il lavoro, la vita, siamo un po' di timore nell'aria, ma che Dio ce l'ha mai di buono. Grazie a tutti per la cortese attenzione. Vi ricordo che potete contattare la nostra redazione all'email redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale. Grazie a tutti.